San Cirillo di Gerusalemme Nacque nel 315 a Gerusalemme da una famiglia cristiana e benestante. Fu un giovane di grande virtù e intelligenza. Il vescovo Massimo lo ordinò sacerdote verso il 345, affidandogli in modo speciale la predicazione. Alla morte di Massimo, vescovo di Gerusalemme, venne nominato suo successore, ma l'ostilità degli ariani lo costrinse più volte in esilio. I padri del concilio di Costantinopoli del 381, nella lettera al Papa Damaso, lodarono Cirillo per aver combattuto in numerosi luoghi contro gli ariani. Uno stenografo di Gerusalemme annotò le sue istruzioni per la preparazione dei catecumini al sacramento del battesimo, le famose catechesi. Morì nel 386 dopo 35 anni di episcopato, dei quali 16 in esilio. Nel 1882, Papa Leone XIII l'ha onorato col titolo di Dottore della Chiesa.